buongiorno da me Artù siamo appena arrivati al primo dei laghi dell'alberzo io Artù vediamo adesso se lo slego se va verso l'acqua guardatelo 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 su quel bagnetto ama l'acqua Artù ama l'acqua Artù fai il bagnetto ehi Arturino giornata fantastica e Artù gli piace è vero Artù vieni qua eh proviamo salire su di qua ma c'è ancora troppa neve per arrivare a quella dell'albergia siamo arrivati all'altro un altro lago sabato eravamo su lago sardonnay oggi siamo uno dei primi tre laghi dell'alberzo gli altri due sono la dietro bisogna andare la dietro il secondo e il terzo ma guardate come se la gode Arturo vieni qua Artù Artù vieni qua e si e si e mi piaci guarda il dago guarda 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 papà Artù ti piace siamo solo io e lui poi è da piazzare la tenda infatti chi vuole venire organizziamo due giorni e allora tu ditemi se non è un cane felice Women's Guarda Artimo Audera seduto feduto Arturino seduto bravo seduto 너 io li ho cercano dei ghiacci �idetefacci guarda, guarda, è contentissimo. Artù, fermo eh. Quando guarda così, cosa senti Artù? Eh, piccola, hai detto qualche camoscio? Giornata fantastica, fantastica. Adesso mangiamo, quattro foto, e poi, visto che non possiamo andare solo al collo dell'albergia, ritorniamo di nuovo giù dal 313 alle bergerie, però nel fondo Balma, il forte di Sera e Maria è casa. Non abbiamo incontrato nessuno, lunedì, l'albergia. Italia 1, ciao ciao!